Giornata di mobilitazione per il settore dell'istruzione, quella di domani, a Parma come in tutta Italia. Al mattino alle ore 12 in contemporanea in tutto il paese, 8.000 docenti universitari di 65 Atenei, a Parma oltre 200, si riuniranno presso i vari rettorati e incontreranno i rettori per ottenere il loro appoggio alla richiesta di un immediato sblocco degli scatti stipendiali della docenza universitaria. Gli scatti sono stati di nuovo bloccati a partire dal 1 gennaio di quest'anno per il quinto anno consecutivo, mentre, a tante altre categorie del pubblico impiego, sostengono i docenti, il blocco è stato via via revocato. La richiesta avanzata al Governo è dunque che, come per le altre categorie del pubblico impiego, gli scatti stipendiali vengano sbloccati a partire dal 1 gennaio del 2015. Ai rettori i docenti consegneranno una lettera in cui chiederanno loro un'azione incisiva e concreta a sostegno delle proprie richieste, fino ad arrivare a prospettare al Governo e al Ministro le dimissioni in massa di tutti i rettori, qualora ancora una volta tali rivendicazioni restassero inascoltate e disattese. Alla sera, invece, a partire dalle ore 21, a promuovere la protesta sarà il Comitato in Difesa della Scuola Pubblica, con una manifestazione organizzata a Parma in Piazza Garibaldi. Nel Mirino, in questo caso, c'è la riforma della scuola varata dal Governo Renzi. Il Presidio vedrà coinvolti insieme insegnanti, studenti e anche genitori. Non può essere per nessuna ragione, si legge in un comunicato diffuso dal Comitato, che ripensare il nostro sistema scolastico pubblico possa significare minarne le fondamenta stesse, cancellarne i principi su cui è stato edificato per trasformarlo in una sorta di scuola-azienda, dove ognuno vende la merce e istruzione che gli pare e al prezzo che gli pare, e dove c'è un uomo solo al comando che decide tutto, a partire dall'assunzione diretta dei docenti. È in gioco, dice il Comitato per la Difesa della Scuola Pubblica, il principio di uguaglianza e la libertà di insegnamento. È in gioco la salute della nostra democrazia.